Allora, andiamo a vederci i trailer dei film che partecipano al Cine Underground. Le date sono quali, vedete? Intemi se si sente bene il trailer. Sperta. Kill it! No! Kill it! No! Kill it! No! Questi sono i film che mi piacciono. Questo è il secondo film. Ninja Bud-Ass. Perché le braccia così? Questo deve essere bello. Questo è il terzo film. Sono i film. Sono i film trash. Quasi tutti. Allora, 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 allora. Allora! Non ho capito sto film Lo avete aspettato Questo è il migliore secondo me Lo avete sognato Lo avete bramito Bramito Finalmente è arrivato Domineremo il mercato della vita E acquisiremo il 98% Dalla ricchezza mondiale La nuova grande avventura epica Che vi lascerà senza fiato L'eterna battaglia tra il bene e il male Il destino dell'umanità appeso a un filo Orest Questo è stupendo E' un brilhante Non è un brilhante Il termino che è il next step up from porn. Michelle Tupes. ...makes a great horror film. The grass roots people, they still believe. Bring it to the small towns. They want to help you. You don't have a big budget. All you have is this emotion that you want to display. So that's the thing that you have to really stay true to. You can create something more when you're kind of limited. That's what's good about horror. There's a lot of wiggle room for that. So I think that's why a lot of people or independent filmmakers kind of gravitate towards horror because it's pretty hard to fuck up. Standing behind the lens and watching my brain come to life is horrifying in itself and invigorating. So if you have a fear, you need to share it with people. You need to make everybody suffer. We are damaged people playing for damaged people. E purtroppo però il film lo conosco. E purtroppo. You're going to lose all of your friends and you're probably going to end up broken, abused and lonely. But you've got to love it. If you're not willing to put up with that then you don't have what it takes to be grass roots filmmaker. It's a lifestyle. It's a lifestyle. It's what I live and breathe for. Come on, basta. I'm a bitch. But this is another show. Aspetta, aspetta. Diretto da... No, scusate. Oh, ma ce la posso fare? Ah, ok. Lo conosco, Giorgio. I'm Casey Nolan with MindCity TV, the YouTube channel for all things horror and scary related. Last year I opened up a very interesting and disturbing dark web mystery box. The reason that I'm revisiting it today is because this doll right here had a USB drive attached to its neck. Here we go. In 1920, there was this little girl named Aurore. This is the town where she was murdered. By her parents. We would like to do a film about it all. This is the room where Aurore died. Aurore! F***! Now I'm just a little suvi. Languages of the dead, what is that? Come on, come on. Come on, come on, come on. I'm going. I'm going. I'm starting to get the feeling that nobody wants to do this. It's like having a literal bloodbath. We could try to talk to Aurore. Using that? Holy! F***! F***! Oh my God! F***! F***! This is how people get murdered. This husband is... Creatureless. That guy was f***ing Babel... Of Aurore. I come to this land. Che cazzo ta roba. Sì, quello Così fantascientifico Ma è vecchio È uscito qualche anno fa su Netflix forse Cosa Cosa Non voglio tra bocchetti Cosa vuoi dirmi su nientamento Vuoi sapere Cosa ne penso Io ho paura di quando mi fai le domande Tu Anche questa è bellissima Come cazzo ha tirato il calcio Guardate Is to fight Il nostro mondo ha crumpled In oblivione Chaos reigns E' un'apocalyptic E' un'epocazione E' un'epocazione E' un'epocazione Starring Lance Allen On a deadly quest To save Tremendous A new invention Of champions Of the cosmos Fist Of the wasteland E' un'epocazione Katie